I Lions Clubs International hanno organizzato un convegno per riflettere sul valore del cibo. Quanto è importante appunto il cibo? Il cibo è fondamentale per la vita dell'umanità e purtroppo ce n'è sempre di meno e il numero di abitanti del pianeta aumenta. Il tema dell'Expo è nutrire il pianeta ed è un tema attualissimo. Noi siamo molto vicini a questa problematica e oggi a Battipaglia abbiamo la fortuna di anticipare il tema dell'Expo affrontando questa problematica qui nella bellissima sala del Consiglio Comunale. L'ambiente è un tema fondamentale nella organizzazione dei Lions ed è un impegno prioritario. Ovviamente abbiamo delle prospettive non rose per il futuro. Se continuiamo a non capire che sprechiamo troppo cibo finiremo che questo cibo non basterà per tutti i nostri nipoti. Soprattutto non basterà l'acqua se la continuiamo a disperdere in questo modo irrazionale. Purtroppo la percezione di questi comportamenti che potrebbero crearci gravi carenze per il futuro non c'è e noi ci auguriamo con questa iniziativa di sensibilizzare l'opinione pubblica ad un maggior rispetto dell'ambiente e ad una maggiore attenzione alla produzione e conservazione del cibo. È un discorso che parte da stasera ma che si va ad allargare al nostro centenario tra due anni dei Lions ed è un'iniziativa che parte fortemente dal presidente Barack Obama dagli Stati Uniti dove si è reso conto che lo spreco è proprio il suo paese che è quello che più spreca e butta via i prodotti alimentari ancora buoni. Noi partiamo da stasera per far riconoscere un attimo a tutte le persone, a tutti gli intervenuti nonché successivamente alle scuole, quali sono le problematiche, il dopoguerra, la necessità fino a quando poi si è mangiato tanto e si è andato a finire che in realtà siamo di fronte ad obesi quindi ci vuole molto più cultura, molto più organizzazione nell'acquisto e nel cucinare tutti i vari prodotti che portiamo a tavola e tutto questo deve far sì che deve avere una cultura che negli anni abbiamo abbandonato dalla mancanza di cibo alla sovralimentazione e poi vedrete delle cose innovative dove ognuno si riconoscerà nelle proprie caratteristiche sbagliare a comprare, comprare molto, i prodotti si fanno ammuffiti in casa perché evidentemente non abbiamo l'equilibrio giusto di quelli che sono gli acquisti e quindi i consumi che dovrebbero essere e quindi vedremo poi alla fine anche delle soluzioni simpatiche e interessanti il microchips davanti a un frigorifero, altre cose che secondo me seguite questo evento sarà di grossa, grossa, grossa cultura nei confronti di tutti quelli che lo seguiranno dopodiché lo faremo nelle scuole, non a caso lo ringraziamo il Comune di Battipaglia perché ha voluto che lo facessimo nella sala del Consiglio Comunale perché è un problema che tocca tutti, dai più bambini agli anziani quindi senz'altro avremo un buon riscontro per quello che è il successo di questa manifestazione Com'è possibile ridurre lo spreco del cibo? La riduzione passa innanzitutto attraverso la conoscenza, attraverso la cultura due elementi che si stanno perdendo uno dei paradossi, lo spreco alimentare è un paradosso uno dei paradossi è che nel mondo ci sono un miliardo di persone obese e un altrettanto miliardo di persone sottonutrite in Italia sprechiamo circa un terzo di quello che in realtà acquistiamo questo perché? Perché il cibo oggi viene prodotto per essere venduto prima ancora che per essere consumato quindi uno degli elementi è veramente conoscere imparare a leggere correttamente le etichette ma soprattutto ritornare alla memoria del cibo quindi imparare a fare la lista della spesa sono piccoli gesti, banalissimi se vogliamo che però aiutano sicuramente ad andare in questa direzione c'è un problema di dieta intesa come modo equo di consumare il cibo c'è un problema di conoscenza della materia prima gli chef in questo momento ad esempio in molti casi sono i primi promotori di questa cultura sono agenti culturali del territorio vanno alla ricerca delle materie prime vanno a dare valore più che al packaging di un prodotto alla storia di quel prodotto e la raccontano i propri clienti anche questo è un modo di fare cultura Lei è uno chef quanto cibo si spreca nei ristoranti? Beh purtroppo negli ultimi tempi se ne se ne spreca un bel po' però devo dire grazie a Dio ora soprattutto diciamo ci stiamo preparando tutti per l'expo per questo grande evento ci stiamo soffermando tanto sull'evitare lo spreco soprattutto nei ristoranti sia per una questione diciamo culturale ma anche per una questione ovviamente economica perché comunque sprecare della materia prima vuol dire anche diciamo così buttare dei soldi e fortunatamente tanti colleghi si stanno comunque dando da fare in questo utilizzando anche metodi di cottura differenti evitando gli scarti pensando anche a dei menu dove ci può essere un riciclo di tutta la materia prima quindi non fossilizzarsi su un menu e restare diciamo fermo e bloccato con quello ma pensare anche a dei piatti alternativi in modo da comunque sfruttare il prodotto al 100% quindi penso che si debba fare questo grande passo in avanti e pian piano sicuramente ci si può riuscire però ovviamente con l'aiuto di tutti e la professionale di tutti deve essere un balzo in avanti e lo dobbiamo fare sia per noi, per la ristorazione ma soprattutto per il mondo intero grazie a tutti grazie a tutti